Sono definiti come asparagi amari, nei vari dialetti locali italiani del nord Italia, perché è una pianta che è presente qui nel nord Italia che non nel sud, vengono chiamati bruscandoli nel Veneto, vengono chiamati lavertis in Lombardia, vertis nell'Emilia, sono diverse l'Uertis a seconda delle varie città, delle varie regioni, cambia il nome ma di molto poco, almeno nell'area Lombarda, fa parte della cucina tipica regionale accompagnata a piatti a base di uova e di riso soprattutto, ha proprio la forma e anche un po' il sapore dell'asparago ma è molto... Grazie a tutti! 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 un aspetto storico che non è da tutti e di cui noi siamo sicuramente molto orgogliosi, per cui è molto divertente.